ben ritornati qua stiamo su mixtextra e siamo ritornati qui in una nuova serie di mod vita reale, mod vita reale ragazzi con mycon mod vita reale e qui siamo entrato a casa sua ho fatto anche la porno, l'ho detto qui, ok ora corre, vabbè entriamo a casa ragazzi questo sarà una nuova serie di mod vita reale con mycon e quando faremo altre cose belle con anche Franklin e Trevor mod vita reale ok allora iniziamo allora il gusto di oggi sono alle sette e mezza dico sono alle sette e mezza ok è il momento di andarci a fare un bel diretto per lo Santos un bel diretto allo Santos questa è la camera nostra ok ora mi mi paremo tante tante raggiunti cose spero che vi piaccia la nuova serie quindi andiamo ok Poi abbiamo postato con la pistola 200 mila euro Poi abbiamo postato la macchina Dovrebbe stare qui nel garage Non dovrebbe stare nel garage Non lo spesso La nostra macchina Non so doveva il garage Non so che non so Questo è l'acqua Oh, ok Ho avuto una tutela Gimmi da saluta Che deve aiutare Ci deve aiutare Vieni presso la notizia Questo abbiamo fatto Presso, ok Dobbiamo aiutare mamma Dobbiamo aiutare Gimmi Dobbiamo aiutare la figlia Di Michael The Santa Sapete che Michael è sempre un cattivo umore E' il figlio Dice un sacco di pallaccio La verità Dice un sacco di pallaccio 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 ok ok raggiungi 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 ricordatevi che è un po' reale ok ok raggiungi 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 해� Alright, toIP and who knows what they would've done if they found me but i didn't expect or want them to get killed you think you're gonna let some guys write off of my son look i knew you were bad guys oh a bad guy a crue, a killer, a thief, a liar i guess i've been all those snakes one time or another right? just what i always thought i was the good guy God help the morally bankrupt men of your generation have left us, you're the good guy Yeah, anyway I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way But I had like seen that happen before Yeah, well, that's me, Jim And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years But that was an extreme fucking situation And I had to add A normal person wouldn't have done that Yeah, well, I had to Yeah, keep telling yourself that When you see their face Bob! When you see their faces every time you close your eyes Va bene, mi sfasciano la manchia pure ora Allora, la mod materiale sta anche con Franklin Allora ragazzi, ormai poteremo la mod materiale Contra la mod vita La vita da Gens La mod vita da Gens Capita che di mai quale è un poveraccio di Gens Ok Ok Ok, Gens Quo I guess nam Upsi i Upsi m Da Lo is me ha fatto..mò eh?? ahhh aaaah aaaaah aaaaaah aaaaaah aaaaah aah e io voglio un po' di più e io voglio un po' di più e io voglio un po' di più Sì, 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 sì. ragazzi la sono agli 8 frena ok dovremmo andare a prendere il preside santa che sarebbe nostra figlia ok ok poi faremo anche gli serie di GTA 5 con Trevor ok e non farei cose normale e non farei cose normale dopo non sappiamo cosa gli facciamo cosa gli facciamo fare un altro quindi questa ragione ok 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 ecco 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 Raffi No! Che cazzo è successo? È morto L'hanno sparato ragazzi Oh no Beep Beep Sì Sono un accessorio per la muovra Sono Kelen Che sei Sì Tu 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 Non È un Tu 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 Master Kraz Ok Una bella camionata Spero che l'avranno tolta Passiamo con Fred Ok 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 chiedetemi, commentate, condividete e ciao belli ciao belli